Genio singolare del teatro napoletano, Annibale Ruccello morì nel 1986 in un incidente d'auto. Aveva appena 30 anni. A testimoniare quell'improvvisa assenza, l'amico Enzo Moscato scrisse di getto compleanno, un'elegia teatrale struggente e disperata fra le più nobili scritture dell'ultimo novecento italiano. Venerdì 6 aprile, Moscato sarà in scena con una replica straordinaria di questo lavoro all'avamposto numero zero di via Sedile di Porto. In un futuro remoto, dopo una guerra totale, la Terra è divenuta in ospitale per la radioattività. L'Europa è una colonia della Confederazione Orientale. Gli scienziati sperimentano la migrazione delle coscienze per liberarle dai corpi. È l'universo distopico di Protocollo XY in scena da venerdì 6 a domenica 8 al nuovo Teatro Sanità, spettacolo vincitore della seconda edizione di On Stage H24. Il nuovo Teatro Sanità può essere raggiunto col Polybus, la navetta gratuita del Comune di Napoli disponibile su prenotazione.